Partiti! Pessimo break per Noriega, primi metri di gara all'interno troviamo Moresu, quindi Negus per via esterna, Homo Deus, quindi Fazzalo, Mardecoralli, Namma Mold e Noriega. Favorito all'attacco della prima piegata in avantaggio, il Giubba Bianca in seconda posizione, Giubba Scacchi, troviamo il numero 7 di Homo Deus, terza posizione per Fazzalo in Giubba Bianca e le maniche arancio, quarto a contatto troviamo Moresu, quindi in quinta posizione Mardecoralli in Giubba Rossa e il cap bianco, a contatto c'è anche Namma Molde in Giubba Azzurra, a chiudere il numero 6 in Noriega in Giubba Celeste. Gruppo molto sfiacciato, quando si va ad attaccare la seconda piegata, al comando è sempre Negus, ad aprire le danze, in seconda posizione si mantiene Homo Deus, per via esterna e Moro in Fazzalo, quindi a contatto c'è anche Moresu, richiesto leggermente da suo interprete, allargo c'è Mardecoralli per via interna e Namma Molde, a chiudere sempre Noriega. Giubba esatto dalla fine, Negus in avantaggio, tra i netti nei confronti di Homo Deus, che deve essere richiesto per tenere il contatto nei confronti di Negus, allargo muove Fazzalo, per via interna c'è Moresu, quindi in quinta posizione troviamo Mardecoralli, Namma Molde e chiudere sempre Noriega che si ricongiunta al gruppo. Negus si dà via nei confronti di Fazzalo, quindi il numero 7 di Homo Deus, sull'ultima curva Negus è tutto nelle mani di Giuseppe Ercegovic, nel confronti di Fazzalo che ha 10 lunghezze dietro, quindi muove anche Moresu per via larghe, quindi Mardecoralli, Negus al completamento della curva e nettissimo vantaggio, ha scavato l'abisso nei confronti di Fazzalo, allargo muove anche Mardecoralli, ma Negus se n'è andato nei confronti di Mardecoralli che viene a prendere la seconda con l'allargo Moresu. Negus è una passeggiata di salute, signori. Viene a vincere, facile, 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 il numero 5 di Negus, seconda posizione per Mardecoralli e per la terza è il numero 3 di Moresu. Ancora un favorito assegno, 1,57 la sua quota al totalizzatore nazionale, in sella Giuseppe Ercegovic, il training della signora Serena Butteri, i colori di Sara Torrigiani, rivediamo gli ultimi metri di gara per questa facilissima affermazione del numero 5 di Negus, con estremo percorso cost-to-cost. Vediamo il primo piano per Negus e Giuseppe Ercegovic, che vincono da facili dominatori questa seconda corsa all'Iporomo Martini, seconda posizione per il numero 2 di Mardecoralli. ecco l'Omar di Coralli e per la terza è il numero 3 di Moresu, 5,2,3 l'ordine numerico ed ufficioso per questa seconda corsa in programma.